Sito storico Souli Souli è costruito da un gruppo di quattro insediamenti, Souli, Samoniva, Avaricos e Chiafa, ed è anche conosciuto come Tetracori o Souliotocoria. Si trovano in una zona precedentemente inaccessibile e prevalentemente montuosa, al confine dei comuni della Tesprozia, Preveza e Ioannina. I primi insediamenti sono stati creati intorno al XVI secolo. Più tardi, intorno a Tetracori, sono sorti altri sette villaggi ed è stata creata la Confederazione di Souli, che era autonoma. Al suo comando un importante ruolo lo hanno svolto i clan, la chiesa e il consiglio di guerra. La società era organizzata in clan, famiglie, di cui i più importanti erano quelli di Zavella, di Bozzari, di Dandi e di Zerva. I Souliotti si trovarono in costanti scontri con i conquistatori ottomani e le loro arti marziali sono diventate leggenda. Tra le più importanti sono le guerre con Ali Pasha, che ha cercato per tre volte di conquistare Souli. Nel 1803, dopo la capitolazione, furono costrette ad abbandonare la propria terra. Poco prima della consegna di Souli, il monaco Samuele, in un atto di autosacrificio e di eroica resistenza, fece saltare in aria il monastero di Agia Paraschevi. Oggi Souli è stata dichiarata sito storico ed è protetta dal servizio archeologico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.